Il mio personale sì, ma è merito soprattutto di chi ha creduto in me, che ha voluto ringraziarmi per i cinque anni di impegno che credo di aver messo nelle iniziative che abbiamo realizzato ed è anche un bel impegno per me perché questo risultato mi dice anche vai avanti con lo stesso ritmo e anzi migliora e offri ancora di più a somma di quello, più di quello che è stato fatto finora. E io devo dire ancora grazie tanto, tanto, tanto ai sommesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.